Buongiorno a tutti, io sono Chiara e su questo canale vi parlo dei quadri più conosciuti e a cui sono affezionata. Oggi ci spostiamo negli Stati Uniti perché vorrei parlarvi del mondo di Cristina, di Wyatt. Andrew Newell Wyatt nasce nel 1917 a Chedsford, un piccolo centro della Pennsylvania. È figlio d'arte, suo padre Nancy Wyatt infatti è un pittore e un illustratore molto apprezzato all'epoca. Da piccolo Andrew soffre di vari problemi di salute ed è considerato troppo cagionevole per frequentare la scuola pubblica. I suoi genitori quindi decidono di farlo studiare con un maestro privato. Malgrado non frequenti quotidianamente coetanei, l'ambiente in cui Andrew cresce è movimentato e stimolante. Ultimo di cinque figli vive in una famiglia appassionata non solo di arte ma anche di musica e letteratura. Mostra uno spiccato talento artistico fin dall'infanzia ma riceve una formazione pittorica strutturata da parte del padre solo dai 15 anni in poi. Andrew apprende tutto a una velocità formidabile e a 20 anni allestisce la sua prima mostra. Ai colori a olio utilizzati dai pittori tradizionali preferisce la tecnica dell'acquarello e il suo stile piace moltissimo al pubblico tanto che tutti i quadri della mostra vengono venduti in soli due giorni. L'artista inizia così la sua carriera man mano che dipinge perfeziona la sua tecnica. Non abbandonerà mai l'acquarello tuttavia utilizzerà soprattutto la tempera a uovo e più che ai colori dà maggiore importanza alla composizione e ai dettagli. I suoi soggetti preferiti sono le ambientazioni dell'America rurale. Lunghe distese coltivate, cascine solitarie, raramente ritrae persone ma quando lo fa si tratta comunque di soggetti che vivono a contatto con la natura e che sono tutt'uno con il paesaggio circostante. I quadri di Wyatt sono la rappresentazione di un mondo agricolo silenzioso e introspettivo fatto di prati, di vento, stagioni ma anche di nature morte e interni. Il suo stile è dettagliatissimo e realista, tanto da essere stato definito proprio il pittore del realismo americano. Ma i suoi quadri non sono semplici rappresentazioni della realtà. Nelle sue scene c'è sempre qualcosa di nascosto, di non detto, di sospeso. Lo spettatore può decidere se limitarsi a guardare un suo quadro in superficie o se dare una sua interpretazione personale e di solito guardando un'opera di Wyatt si è portati a fare quel passaggio in più. La scena cioè ci cattura e quasi ci obbliga a proiettarvi un po' del nostro sentire. Sono quadri calmi ma che volente o nolente si agganciano alle nostre emozioni, positive o negative che siano. E qui veniamo al nostro quadro. È il 1948 ed Andrew Wyatt realizza il mondo di Cristina. Questo è il suo quadro più famoso e a mio parere il più coinvolgente. Qui vediamo una ragazza di spalle seduta, quasi sdraiata, su un prato che guarda da lontano una grande casa con un fienile a fianco. Non ci sono alberi e l'orizzonte, a parte le forme dei casolari, è lineare. Lo stile è particolareggiatissimo. Si possono scorgere ad esempio i singoli capelli o i fili d'erba. Per certi versi sembra quasi una foto. Questa ragazza è sola in questa collina deserta e pare quasi che voglia raggiungere la casa ma che non ce la faccia. A dare questo senso di fatica sono due variabili. Una costituita dalla composizione, cioè dalle linee, e l'altra dalla postura della fanciulla. Le linee vanno verso l'alto, l'orizzonte non è dritto e la curva ci fa capire che la strada è in salita. Ma la salita è data anche dalla diagonale che dal basso a sinistra va verso la casa, passando proprio attraverso il corpo della ragazza. Lei è sul prato ma il volto è alzato e lo sguardo va verso un orizzonte più alto rispetto alla sua posizione. Soffermiamoci quindi un attimo sul corpo di questa ragazza. Di primo acchito sembra una ragazza giovane, ma guardando meglio i dettagli notiamo un senso di fatica e di disagio. Le braccia sono molto magre, le dita di entrambe le mani non sono rilassate, ma contratte quasi a confeccarsi nel terreno o a strappare l'erba. Anche le gambe sono molto magre, i capelli sono scuri, ma si scorge qualche filo bianco. Insomma, chi è questa donna? Questa donna è Cristina Olson, da cui il titolo del quadro. È la vicina di casa del pittore che ai tempi trascorre lunghe vacanze nel Maine, uno stato la cui economia si basa per l'appunto sull'agricoltura e poi sull'allevamento e la pesca. Questa donna nella vita è affetta da una malattia degenerativa che non le permette di camminare, ma lei anziché muoversi con una sedia a rotelle preferisce strisciare per terra e spostarsi usando la forza delle braccia. Quando Wyatt realizza questo quadro Cristina ha più di 50 anni, ma a fare da modella sul prato è la moglie del pittore che è ben più giovane. Da qui l'equivoco di scambiare Cristina per una ragazza, perché il corpo pare quello di una donna giovane, poi però nei dettagli scorgiamo la fatica, la difficoltà, il dolore, come ad esempio queste mani contratte. Il pittore percepisce la solitudine di questa donna, forse perché anche lui ha avuto un'infanzia fatta di malattia e di solitudine a sua volta. Wyatt un giorno vede realmente Cristina strisciare nel campo e decide di ritrarla così, sola, in un mondo che per tutti è facilmente accessibile, ma che per lei è quasi irraggiungibile. C'è anche una sorta di confine tra il prato dove sta Cristina e quello dove sta la casa, dato dalla linea del campo coltivato. Sembra proprio esserci una linea che separa il suo mondo e quello che lei vuole raggiungere. E con il vento che le sposta i capelli in avanti, sembra quasi che anche la casa stia andando nella stessa direzione, allontanandosi da lei. Magari Cristina sta chiamando qualcuno, chiede aiuto, non lo sappiamo, ma la voce come il suo sforzo si disperde nel vento. Io lo trovo un quadro molto malinconico, direi addirittura triste, ma è anche uno di quei quadri da cui non riesce a distogliere lo sguardo, perché ti sbalza in una dimensione che volente o nolente ognuno di noi conosce, una dimensione che può essere comune a tutti, anche a coloro che non sono necessariamente colpiti dalla malattia. Quante volte infatti ci capita nella vita normale di faticare senza raggiungere i nostri obiettivi o semplicemente di essere soli anche in un ambiente comune come può essere casa nostra? Quante volte dobbiamo cercare di superare i nostri limiti ed essere ostinati per raggiungere il nostro traguardo, quella casa in fondo alla collina? La casa tra l'altro oggi è un monumento storico nazionale ed è stata restaurata per portarla proprio all'aspetto originario del dipinto. Andrew White muore nel sonno nel 2009 a 91 anni ed è considerato uno dei maggiori pittori americani al pari di Edward Hopper e Grant Wood. Viene chiamato a ritrarre presidenti, Churchill addirittura gli commissiona alcuni acquarelli per la sua stanza personale ed è il primo artista visivo a comparire sulla rivista Time. È definito il pittore della gente proprio perché è amatissimo dal pubblico, tanto che con i suoi paesaggi immediati ed evocativi riesce a trovare spazio anche lungo quei decenni eclettici in cui si sviluppano le avanguardie di Warhol e Pollock. Della sua arte dice preferisco l'inverno e l'autunno quando senti la struttura ossea del paesaggio, la sua solitudine dove l'intera storia non si vede. Se ti mostri completamente tutta la tua anima interiore scompare. Devi tenere qualcosa della tua immaginazione per te stesso. Io vi ringrazio per avermi seguito fin qui. Se il video vi è piaciuto potete mettere un like, iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per essere sempre aggiornati. Noi ci vediamo tra un paio di settimane. Noi ci vediamo tra un paio di settimane.